A tutti quanti è capitato di trascorrere una brutta serata, una pessima serata e non da soli. Intendo un pessimo appuntamento. E quello che vedo accadere nella maggior parte dei casi, dalle persone che mi scrivono, è quello di salire su un piedistallo con l'atteggiamento del questo tizio o questa tizia mi ha fatto trascorrere una brutta serata. E ve lo dico subito, non funziona così. O per carità, ci sono delle persone che anche semplicemente per la fiatella che hanno ti fanno venire voglia di essere dall'altra parte del globo. Ma nella maggior parte dei casi noi abbiamo quantomeno una parte di responsabilità ma anche se non abbiamo la responsabilità abbiamo una grande opportunità. Ed è questo ciò di cui vi voglio parlare. Nel corso Le regole della felicità spiego che fra l'altro andatevelo a guardare se volete veramente una relazione meravigliosa avete bisogno di conoscenze. In quel corso spiego che una relazione meravigliosa non è una relazione dove tutto quanto va bene. Una relazione meravigliosa è una relazione dove ogni giorno, nonostante le difficoltà, si cerchi di costruire qualcosa. Questo non vuol dire che la relazione debba durare per forza tutta la vita. Questo vuol dire che la relazione nel momento in cui c'è ci arricchisce, ci fa diventare delle persone migliori, ci fa ringraziare tutti i giorni di avere quella persona accanto perché con quella persona stiamo riuscendo a creare qualcosa che per noi, per noi è una ricchezza. A prescindere che quest'altra persona sarà accanto a noi per sempre. Ci sentiremo per sempre arricchiti da quella relazione. Questa è la vera magia. E che cosa c'entra tutto quanto questo con quella serata andata male? C'entra tantissimo. Quella serata che sta andando male è una grande opportunità per fare le prove generali di quando la nostra relazione dei sogni non andrà bene. Una relazione fantastica ha degli alti e dei bassi, anzi ha degli altissimi e dei bassissimi. E quei bassissimi saranno molto simili a quella serata che sta andando male. E sarà il nostro atteggiamento a fare la differenza. Sarà la nostra voglia di tirare fuori il meglio, proprio come spiego in Felicità. Tirare fuori il meglio dal peggio che rende quella relazione speciale. Sono i momenti di difficoltà e superare i momenti di difficoltà. L'amarsi nonostante che rende quella relazione speciale. Perché quando tutto quanto va bene, la relazione non è speciale. Una relazione diventa speciale, diventa unica, quando si superano delle difficoltà insieme. Quando tu ringrazi l'universo per aver conosciuto quella persona, perché ti ha reso, ti ha aiutato a diventare quello che sei. Allora se questo noi riusciamo ad impararlo da tutti quegli appuntamenti andati male, quando avremo davanti ai nostri occhi la persona giusta, saremo noi le persone giuste per rendere insieme quel rapporto, il rapporto dei nostri sogni. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.